probabilmente vi sarà capitato di appoggiare un bicchiere di vino o di liquore e poi vederne l'impronta su una superficie oppure graffiare in maniera involontaria sempre una superficie con un coltello e vederne l'impronta al cartas queste cose le verifichiamo prima per cui voi potete essere sicuri della resistenza dei materiali che utilizzate e che vi vengono forniti con i mobili. La prova di resistenza agli agenti chimici serve a simulare l'effetto del contatto delle superfici dei mobili con sostanze liquide di uso comune come detergenti, sbiancanti, alimenti. La prova consiste nell'applicare la sostanza attraverso un dischetto imbevuto della sostanza in esame e di lasciare in contatto per un tempo stabilito per poi valutare l'effetto residuo sulla superficie. La prova di resistenza al calore simula invece l'effetto di un oggetto caldo appoggiato sulla superficie del mobile come ad esempio una caffettiera o il fondo di una pentola appena tolta dal fuoco oppure il ferro da stiro. La prova consiste nell'appoggiare un blocco di alluminio scaldato a una certa temperatura e lasciarlo in contatto con la superficie per un certo tempo. Dopodiché si valuta l'effetto visivo lasciato dall'oggetto sulla superficie. La prova di resistenza all'abrasione simula l'effetto di sostanze abrasive o d'oggetti abrasivi come detergenti a base di polvere abrasiva, spugnette abrasive sulla superficie dei mobili. La prova consiste nel sottoporre un provino ricavato dalla superficie del mobile all'azione di mole rotanti rivestite di una carta abrasiva. La resistenza all'abrasione si valuta come numero di rotazioni necessarie a ottenere l'asportazione del rivestimento del materiale. Grazie. Grazie. Grazie.